Don Alessandro, in occasione dell'anno Robbiano, Fogliano della Chiana ospita varie iniziative proprio perché qui la presenza di Della Robbia in numerose chiese di Fogliano è importante. La parrocchia custodisce la bellezza di cinque opere di Della Robbia, una ce l'abbiamo incollegiata, la Madonna della Cintola, poi abbiamo l'assunzione di Maria a San Domenico, poi abbiamo l'ascensione a San Francesco e poi un'opera particolarissima che è questo complesso della crocifissione che è a tutto tondo, non sono pale d'altare, che è una particolarità che abbiamo qui solo a Fogliano. E sono momenti di grande devozione per la popolazione perché soprattutto la crocifissione è nel cuore dei Foglianesi e rientra anche in una spiritualità degli stessi Foglianesi. Sindaco, oggi una giornata importante per Fogliano della Chiana con l'inaugurazione in vista dell'anno Robbiano. Ecco, qual è l'importanza di questo momento? Che cosa è previsto? Oggi si parte con il 3 giugno fino al 30 settembre, era un obiettivo che ci eravamo dati e un obiettivo a questo punto raggiunto, ma non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Fogliano ha la fortuna di avere un numero incredibile di opere robbiane e di una qualità assolutamente... non so neanche come definirla perché quando siamo andati e ci hanno chiesto le nostre opere sono state in qualche modo valutate e il valore di queste opere non è neanche quantificabile, quindi abbiamo davvero dei tesori di valore inestimabile. Quindi su questo è partita la nostra idea di creare proprio questa mostra evento dell'anno Robbiano 2023. È una mostra itinerante perché riguarda tutto il paese e credo che sia davvero un bel vedere e sia oggi una giornata piena di emozioni, in primis per me ma per tutte le persone che avranno il piacere di vedere le opere della Robbio. Una bella occasione per valorizzare ulteriormente queste opere presenti qui a Foiano e per offrire anche delle mostre collaterali. Assolutamente sì, mi fa estremamente piacere vedere che il paese è sempre più apprezzato, vedere sempre di più turisti italiani e stranieri che frequentano e vengono nel nostro centro storico, sapere che le strutture recettive funzionano e funzionano bene, che hanno tutto esaurito e quindi era assolutamente necessario pensare, ma questo è già nato all'inizio della legislatura e anche prima, a valorizzare tutte le opere che abbiamo per offrire un pacchetto sempre più completo. Quindi è l'inizio ma credo che è un buon inizio, siamo assolutamente soddisfatti. In vista dell'apertura dell'anno Robbiano, a Foiano della Chiana una serie di iniziative proprio per celebrare i della Robbia, oggi l'inaugurazione. Sì, finalmente partiamo dopo mesi e mesi preparativi, siamo veramente felici. La mostra sta già riscuotendo molto successo, c'è molta aspettativa e quindi oggi apriamo le porte ai nostri della Robbia a tutto il mondo. Le opere sono state restaurate negli ultimi mesi e negli ultimi anni dall'amministrazione comunale e quindi ora abbiamo fatto in modo di poterle far visitare a chiunque, grazie anche a un accordo sia con la parrocchia per tenere le chiese aperte sia con le nostre associazioni per tenere il nostro museo aperto. Oltre a queste ci sono due o tre mostre collaterali molto importanti tra cui quella del MAN, il Museo archeologico nazionale di Napoli che ci ha portato delle opere stupende e saranno qua proprio al museo dove c'è l'opera probabilmente più importante di Foiano ma forse anche di tutti della Robbia, ovvero la Madonna con il bambino di Andrea della Robbia. Il Museo archeologico di Napoli è veramente onorato di celebrare questo avvenimento robbiano perché tra le tante opere che sono in questa splendida cittadina della Val di Chiana sicuramente la cosiddetta Madonna della Neve è un simbolo a livello nazionale e abbiamo voluto omaggiarla attraverso una serie di reperti antichi che dimostrano come il rapporto tra madre e figlio nel mondo del sacro, tra gli dèi è vivo fin da tempi degli Egizi e continua tra gli Etruschi e Romani quindi è una carrellata di opere che in qualche modo seguono questo amore forte tra questi due esseri, l'una che lo crea e l'altro che ne porta l'eredità. È importante che Foiano abbia ben chiara questa sua capacità di esternalizzare tanti tesori attraverso dei micro itinerari che consentano al contempo di valorizzare ciò che sta dentro le chiese ma anche di far vedere il tessuto architettonico della cittadina che si sviluppa in una sorta di emiciclo e quindi questo è l'invito ai tanti turisti che quest'estate potranno venire da queste parti perché perdersi nella pace e nell'arte di questi borghi non è da poco. Si avvicina all'inaugurazione dell'anno Robbiano, ci troviamo a Foiano della Chiana dove viene realizzata un'iniziativa in particolare qui la mostra Nobilis Materia che riproduce come vediamo la porzioncola di San Francesco d'Assisi. Sì, allora abbiamo accettato assolutamente, personalmente è un onore curare le collaterali che riguardano appunto le celebrazioni di Andrea della Robbia per quanto riguarda le collaterali abbiamo, e ho chiamato uno degli artisti più importanti nel panorama nazionale italiano che è Gianluca Bianco in questo senso abbiamo con Gianluca, con l'artista che è stato coinvolto, invaso in questo caso la città di Foiano con delle fotografie che riguardano i capolavori di Andrea della Robbia ma abbiamo voluto però concentrarci sui particolari, i particolari dei capolavori qui conservati. In questo caso invece ci troviamo nella chiesa della Carbonaia famosissimo anche l'articolo del New York Times che ha definito questo posto, questo posto inghiotte la gente. Per quanto riguarda noi è un posto meraviglioso dove abbiamo appunto celebrato con Gianluca Bianco la Porziuncola, la Porziuncola di San Francesco d'Assisi dove è un'installazione che richiama il materiale e quindi da qui il nome Nobilis Materia richiama il materiale usato da Andrea della Robbia un lavoro eccezionale, un lavoro che è stato esposto praticamente ovunque e che celebra in questo caso con Gianluca Bianco e con la Porziuncola quest'anno dedicato ad Andrea della Robbia. Sono molto interessanti anche alcuni dettagli di quest'opera. Noi con Porziuncola abbiamo voluto creare qui, quanto mai un luogo spirituale eccezionale come la chiesa Carbonaia abbiamo voluto creare uno spazio, un portofranco, uno spazio dove all'interno tutto è possibile. La Porziuncola cos'è? La Porziuncola è fatta di ceramica quindi richiama la Nobilis Materia con cui celebriamo il genio di Andrea della Robbia e quindi ceramica ferita, è una superficie che è ferita è in poche parole una superficie che invasa di buchi e di strappi o comunque con una violenza casuale. Questo richiama il saio di San Francesco che è stato naturalmente ferito da molteplici e in molteplici occasioni per cui questa Porziuncola che è la casa dove tutto è possibile, dove ogni cosa si può fare, si può pensare soprattutto il luogo spirituale, la ceramica è invasa da questi strappi, da questi buchi. Richiama il saio di San Francesco, l'aiuta con cui è costruita e l'insieme che lo tiene assieme. Con l'artista Gianluca Bianco per presentare questa mostra Nobilis Materia, come è nata? È nata su una proposta di Massimo, Massimo Magurano, il curatore, in collaborazione con Jacopo, Jacopo Franci del Comune di Fogliano e mi hanno proposto, mi hanno fatto vedere la Carbonaia in realtà, è partito tutto dalla Carbonaia. Mi hanno fatto vedere la Carbonaia e gli ho detto qualunque cosa, ok. Perché? Perché avendo questa struttura dietro alle mie spalle, che è una casa, che è una Porziuncola, chiaramente è ispirata alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, ma in realtà è un luogo, è uno spazio, un luogo interiore perché come vedete è costruito dentro a un altro luogo. Quindi il concetto è, immaginate, un corpo, all'interno del corpo c'è qualcos'altro, io considero sempre il cuore, in qualche modo, quindi questa Porziuncola è il cuore della Carbonaia. E siccome la Carbonaia è nera, io avendo costruito la Porziuncola in bianco, l'ho immaginata come una luce, e quindi portare una luce nell'oscurità, un concetto che secondo me oggi esprime esattamente quello che voglio raccontare. Cioè Porziuncola non è altro che un luogo di luce all'interno di un mondo oscuro, in un mondo in difficoltà. I valori francescani, e parlo di valori laici, non valori religiosi, sono molto chiari. L'ecologia, cioè questo attaccamento, questo recupero della relazione con il pianeta, con gli altri esseri viventi, con gli altri esseri umani, è fondamentale, così come è fondamentale l'essenzialità della forma, cioè la sobrietà, smettere di essere opulenti, di riempirci, ma di andare all'essenza delle cose. Questo è un po' il messaggio della Porziuncola, ed è quello che a me interessa raccontare oggi, cioè recuperare dei valori per recuperare il centro che è l'essere umano, ma non più lì nell'Olimpo, solo nel centro del mondo, ma con tutti gli altri esseri, prima di tutto esseri umani, ma soprattutto tutti gli esseri viventi in relazione a un pianeta. Quindi non vorrei sembrare strano, ma Porziuncola rappresenta tutto questo, rappresenta un recupero della centralità umana, un luogo, uno spazio, una meditazione, un tempo nel quale chi vorrà poi entrare può ritrovare e soprattutto per farlo dovrà togliersi le scarpe. Togliersi le scarpe è un gesto di spogliazione minimo, ma che ci permette di tornare a contatto con la Terra. Infatti Porziuncola significa pezzamento di Terra su cui è costruita questa struttura. Togliendo le scarpe entriamo in contatto con la Terra, ci accorgiamo che esiste un pianeta che ci sostiene, che ci permette di vivere e che se non cominciamo a rispettare probabilmente in una scossa ci spazzerà via. Grazie per la visione!